Sulla nostra regione è presente un campo di alta pressione che determina condizioni di tempo discreto con temperature in linea con la media del periodo. Tuttavia nel corso della giornata di sabato la coda di una perturbazione proveniente dalla Francia interesserà marginalmente le regioni settentrionali dell'Italia con qualche riflesso anche sulla nostra regione dove si avranno passaggi nuvolosi per lo più innocui. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana. Sabato 27 marzo condizioni di cielo poco nuvoloso ovunque con tendenza ad aumento della nuvolosità nel corso della giornata soprattutto nelle aree a ridosso dei rilievi. Qualche piovasco potrebbe interessare il settore più settentrionale della regione ma si tratterebbe davvero di fenomeni di poco conto temperature senza particolari variazioni venti deboli da sud ovest e mare poco mosso. Domenica 28 cielo sereno poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata temperature in lieve aumento venti deboli di direzione variabile con una maggiore componente sud orientale mare calmo o quasi calmo. A partire da lunedì 29 marzo l'alta pressione delle azzorre si espanderà con decisione verso la nostra penisola e sarà supportata in quota da un promontorio di matrice subtropicale. Ci attendiamo dunque una maggiore stabilità con cielo che si presenterà per lo più sgombro da nubi ovunque e con temperature che subiranno un ulteriore aumento portandosi sul valore al di sopra della media del periodo. Durante le ore centrali della giornata saranno possibili punte di 20-22 gradi centigradi relativamente alle aree interne. Una situazione destinata a durare almeno fino a mercoledì 31 marzo anche se le ultime elaborazioni numeriche mostrano segnali di persistenza fin all'esordio del weekend pasquale ma per tutti i dettagli invito i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo facebook Meteo Cilento. Termino qui un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.